Un buongiorno, buon giovedì 23. Siamo pronti per andare a sfogliare le prime pagine e poi i quotidiani, non solo di casa nostra ma anche quelli nazionali per vedere quali sono le principali notizie raccolte proprio dai fogli che trovate già in edicola. In questa prima parte come di consueto spazio alle prime pagine, cominciamo con i quotidiani di casa nostra, partiamo con le quattro edizioni del quotidiano del centro, partiamo con l'edizione di Pescara. Truffe sul web, pescarese arrestato, questa è l'apertura del centro, vendeva motori per barche ma non li consegnava, in un mese è riuscito a fare un bottino, pensate da 30 mila euro. In alto il rapporto della Banca d'Italia, l'Abruzzo cresce ma l'occupazione però resta ancora al palo. Questioni lavorative anche dalla parte opposta perché torniamo sul caso Onewell, la fabbrica di Atessa, il governo dice non lasceremo soli i lavoratori dell'azienda. Pescara-Roma, infrastrutture, 186 milioni per la rete ferroviaria. Scendiamo in basso perché nelle cronache rimaniamo a Pescara e parliamo di pista ciclabile, i commercianti chiedono lo stop ai lavori. Leggiamo anche cittadini e commercianti sul piede di guerra contro la deribola che istituisce la pista ciclabile su Viale Muzzi. Al comune chiedono di bloccare i lavori. Scendiamo ancora e rimaniamo sempre a Pescara, lampioni spenti, subito interventi in 80 strade. Andiamo nell'area Vestina, a Penne, Vigili del Fuoco, Nuova Caserma che ci sarà entro dicembre. Nella fotonotizia parliamo di sport perché ieri è stato inaugurato il primo punto vendita della Pescara Calcio fuori provincia ad Ortona. Peraltro c'è stata anche l'amichevole, vinta 11-0 ma contava poco dai biancazzorri di Zeeman, apre lo store. Bagno di folla per il Pescara a Ortona. Dall'altra parte l'esperimento Sox che sta facendo molto molto discutere, soprattutto dopo il servizio delle Iene, Laboratori, il vicepresidente della regione Giovanni Lolli dice saremo assolutamente inflessibili. In basso, cronaca rosa, Belen Jannone, fine dell'amore. Insomma ce ne faremo una ragione, la bella Rodriguez e il pilota di Vasto si sono lasciati, lui era pronto a sposarla evidentemente. Lei no. In Champions League ieri sera si è chiuso il penultimo turno, Juventus pari con il Barcellona, la Roma invece cade al Vanda Metropolitano 2-0 contro l'Atletico Madrid. Cambiamo edizione, andiamo sempre del centro, andiamo su quella aquilana. Rischio sismico, chiuse due scuole, la primaria di Preturo e quella dell'infanzia di Arischia. Per il comune sono strutture evidentemente pericolose. Nelle cronache a Sulmona, generale morto, usata la pistola ricevuta in regalo. Ovviamente parliamo della morte di Guido Conti, è stato un imprenditore di Ile del Pescarese, suo grande amico a donare l'arma a Guido Conti. Intanto continua l'inchiesta della procura sul decesso del generale dei carabinieri forestali. L'Aquila, malato di tumore, denuncia l'esame slitta di nove mesi. È sempre all'Aquila, a casa di riposo, anziani truffati e tre vanno nei guai. La fotonotizia che riguarda il calcio, ma anche in questo caso in un taglio un po' particolare, il caldo abbraccio dell'Avezzano Calcio a Pava Francesco. Ieri i biancoverdi sono stati in Vaticano e leggiamo Avezzano Calcio, fondato nel 1919. Per la prima volta si ritrova l'udienza generale di un pontefice. Cambiamo anche in questo caso edizione. Andiamo sull'edizione di Teramo. Cambia il titolo, la sfida di Brucchi. Tutti in consiglio. Il sindaco a sorpresa convoca la seduta, parliamo ovviamente di politica. Vediamo chi ha il coraggio di confrontarsi, dice il primo cittadino. E poi nelle cronache, andiamo a Giulianova, il giallo della pittrice Renata, telefoni sequestrati a marito e figlio. Nuovo atto nell'inchiesta sulla morte della pittrice Renata Rapposelli, sparita il 9 ottobre da Giulianova e trovata dopo un mese a Tolentino, sequestrati i cellulari appunto del padre e del figlio, dell'ex marito e del figlio. Sempre a Giulianova, bruciano l'auto per la droga non pagata. Ovviamente parliamo di cronaca a Roseto. Multe irregolari, processo al capo dei vigili. La fotonotizia all'ospedale di Teramo, pediatria in mostra, i disegni dei bambini ricoverati. Da ieri il reparto di pediatria dell'ospedale di Teramo è ancora più colorato, alle pareti sono stati appesi i tanti disegni che i bambini ricoverati hanno realizzato negli ultimi tre anni nell'ambito del progetto L'Arte di Essere Bambini. Davvero una bella iniziativa. Chiudiamo le quattro edizioni con quella teatina, con quella di Chieti e provincia. Troppi evasori, comune in rosso, l'allarme dei revisori. L'ente è senza soldi, scarsi controlli sulle riscossioni delle tasse. Nelle cronache ad Ortona, uccise moglie e amica perizia su Marfisi, ricorderete il caso di Francesco Marfisi, il giudice del Tribunale di Chieti, accoglie la richiesta della difesa di Francesco Marfisi di giudizio abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. Marfisi il 13 aprile uccise moglie e un'amica. Ci spostiamo a Lanciano, arrestato il ladro vandalo del liceo Galilei. A vasto, scendiamo ancora più a sud, abusano dei permessi 104, due in due vengono licenziate. La fotonotizia, protestano in centro gli studenti dell'artistico, sfrattati in manifestazioni a Chieti tra banchi e scatoloni, aule di cartone che crollano in un finto terremoto. Un serpente strisciante a simboleggiare il silenzio delle istituzioni sul problema sicurezza delle scuole. Così ieri 250 ragazzi dell'artistico di Chieti, senza più sede dallo scorso 9 ottobre, dopo i cedimenti, hanno protestato per avere una nuova scuola attrezzata e sicura. Insomma, richieste assolutamente più che legittime. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sul messaggero Conti, la delusione per il lavoro. Torniamo sulla vicenda dell'ex generale suicida. La procura ricostruisce il quadro di un crollo psicologico per l'incarico. Aveva proposto inutilmente un maxiprogetto per l'ambiente. Forse si sentiva inadeguato. Leggiamo anche nel dettaglio, proprio l'attacco del pezzo. Aveva subito proposto un investimento da 2 milioni di euro per ridurre l'impatto ambientale e risparmiare sullo smaltimento dei rifiuti, ma alla total non gli avevano dato molto retta. Anzi, nessuna. Ed evidentemente poi da qui si è scatenato tutto il resto. In alto, Val Vibrata, Sant'Egidio, giovane operaio, sale sul bus per Roma, è sparito nel nulla. A Giulianova, esperta di botanica, esamina l'auto e il luogo dove è stata trovata la Rapposelli. A Pescara, nuovo porto, una terrazza sulla vasca di Colmata. Di spalla, Banca Italia, l'economia, leggiamo, dà segnali di ripresa. Ad Ortona, uccise, torniamo sulla vicenda Marfisi, moglie e amica, si farà la perizia. Scendiamo in pagina, a centro pagina, Gran Sasso, l'alto là del vicepresidente Lolli. Garanzie per l'esperimento radioattivo. Poi sentiremo anche le parole del vicepresidente della regione Lolli, che fa un po' chiarezza nel cuore un po' complesso di questo esperimento radioattivo nel cuore del Gran Sasso. Cronaca, truffatore online, 30.000 euro di incassi al mese. Pescara, l'uomo, metteva in vendita sul web telefonini e videogiochi, però non possedeva ed evidentemente non poteva venderli. Rifiuti, in basso, commissari per le discariche. Leggiamo, il Consiglio dei Ministri ha disposto il commissariamento di 22 discariche abusive in sei regioni italiane, oggetto di infrazione europea per le quali da tempo sono scaduti i termini delle difide. In Abruzzo sono, ne leggiamo, Sant'Arcangelo, Bellante, Caprareccia, L'Aquila, Pera, Papera, Castello di Sangro, Difesa, Cerenza sul Trigno, Ceco, Lama dei Peligni, Carrera, Palena, Provincia di Chieti, Fosso San Giorgio, Aortona, Dei Marsi, Il Fossato. Insomma, come vedete, Colle Freddo a Penne, Lota e Cantalupo a Vasso, sono tante le discariche per cui ci sarà il commissario. Ultima, prima pagina regionale, la città, dunque ci spostiamo in provincia di Teramo, Brucchi prende tutti in contropiede, il Sindaco convoca il Consiglio per lunedì, il PD cambia ancora idea, Pomante evoca il biscotto. In alto, oggi la lista dei candidati per Teramo e Atri, chirurgia, la Asle rischia di rimanere senza primari. E poi la replica della regione sulla questione della Biblioteca Delfico, triplicati i fondi per la Biblioteca Delfico. La fotonotizia, arriva il Monsignore, oggi la nomina, occhi puntati sul pugliese, Lorenzo Leuzzi, che dovrebbe essere il neovescovo. In basso, l'Università di Teramo apre alla canapa utile ai migliori ricercatori italiani, oggi a confronto sulla Cannabis. Poi di spalla, esperimenti pericolosi, la regione si schiera contro Sox. Potabilizzatore ok, torna l'acqua nei rubinetti della Valvomano. In basso, leggiamo per lo Sport, ieri partita di Coppa Italia per il Teramo, 0-0 con la Viterbese, ma poi è calci di rigore, sconfitta per il Teramo, calci di rigore stregati. Il Teramo fuori dalla Coppa Italia, sì, ma con onore. Chiudiamo le prime pagine regionali, apriamo le prime pagine nazionali, partendo dal Corriere della Sera, che apre con una doppia apertura, di fatto, quella del Corriere della Sera, perché leggiamo la politica italiana. Berlusconi duello alla Corte europea, lui dice, sono ottimista, il governo difende la decadenza da senatore. Prima e unica udienza ieri a Strasburgo sulla decadenza del mandato di senatore e la ineleggibilità appunto di Silvio Berlusconi. Doppia fotonotizia però, perché un'altra apertura, il verdetto contro Mladic, la condanna del Boia, condannato all'ergastolo Mladic per la strage di Srebrenica. Infatti leggiamo centinaia di testimoni, migliaia di prove, nessun dubbio. a Srebrenica agì consapevolmente, a Sarajevo ordinò di ripulire e distruggere la città. Il Boia dei Balcani, l'ex generale delle forze serbo-bosniache, Ratko Mladic, è stato condannato in primo grado all'ergastolo dal Tribunale dell'AIA per i crimini nella ex Jugoslavia dopo 25 anni di attesa, 15 di latitanze e 4 di processo. Insomma, verrebbe da dire davvero finalmente. E poi, torniamo sulle questioni più italiane, l'Italia non ha qui le misure della manovra, la lettera Bruxelles non si deve arretrare sulle pensioni. Chiudiamo con il Corriere della Sera, vediamo la Repubblica nel nuovo layout. Padoan, il Ministro dell'Economia alla CGL, prima i giovani e poi le pensioni. Queste sono le parole del Ministro nell'intervista di Repubblica. Una scelta di sinistra va cercata una crescita inclusiva e sostenibile, ma anche bisogna colpire i manager disonesti. E poi c'è anche il commento di Gustavo Zagrebelsky, il vestito buono della politica. Leggiamo le altre notizie. Appunto, l'ergastolo a Ratkomladic, carnefice del genocidio di Bosnia. Ancora, leggiamo di spalla, altri approfondimenti che sono di fatto diventati nella nuova Repubblica preponderanti. Federico Rampini, l'uguaglianza perduta di internet. E poi ancora, la questione di Berlusconi. Troppe volte ho scritto Berlusconi di Michele Serra. Ancora, scendiamo in basso. Per quanto riguarda l'ambiente, a Bagnoli, lo spreco infinito, 600 milioni al vento, la bonifica tutta da rifare. Il caso, mai tante violenze contro le donne, ma Ilenia perdona l'ex che la bruciò. Il documento, oro gioielli fazende, l'archivio della P2. Ecco il testamento, manoscritto da Licio Gelli. Apriamo, vediamo la prima pagina della stampa. Anche qui un'apertura, una prima pagina molto simile a quella del Corriere della Sera, con l'ergastolo per il boia di Israe Brenica, l'ex generale serbo Mladic, condannato per i crimini di guerra della Bosnia, e dall'altra parte invece l'allarme sulle periferie. Nelle zone degradate, 15 milioni di persone, rapporto sull'Italia ai margini, ora serve un piano Marshall. La commissione parlamentare di inchiesta servono 25 miliardi per il risanamento. e poi in basso, Roma non può permettersi un debito così, parla il commissario UE per l'economia Moscovici, entro maggio una manovra correttiva da 3,5 miliardi. Il fatto quotidiano, la Nuova Repubblica, che praticamente da due giorni ha cambiato formato, di Berluscalfari. Questa specie di collage davvero mostruoso. Il fondatore, ovviamente, Eugenio Scalfari. Tra Berlusconi e Di Maio, voto Berlusconi. In alto, a Federcalcio, Ancelotti il nuovo CT della Nazionale, ma arriverà a giugno, mentre salta il blitz di Malagò sul commissario. Sciopero ad Amazon, panico per il Black Friday, di domani, per i tacchini e non. Domani lo stop al centro di Piacenza. In basso, il dossier Ema, roba da seconda media. Ma che sfiga, brochure di Milano, un bugiardino per sciroppi. Ema che doveva, c'era stata la possibilità che venisse a Milano, e invece poi, purtroppo, non è stato così. Il manifesto, sconto di classe, proprio sulla questione Amazon. Lo sciopero arriva nel Black Friday, il venerdì degli sconti. I dipendenti di Amazon a Piacenza chiedono un aumento, la multinazionale USA, abbiamo già le paghe più alte del settore, garantiremo le consegne. In basso, rapporto legambiente, alluvioni e frane. L'Italia rischia ogni giorno. Ratko Mladic, quale futuro dopo la condanna del Tribunale dell'Ai? Appunto, andiamo avanti. Il messaggero, statali, assunti, 50.000 precari, piano grandi aziende, per Roma, ma dia firma, stabilizzazioni da gennaio, proroga ai contratti in scadenza. Oggi, al tavolo, calenda la strategia per trattenere le imprese nella capitale. In alto, Tribunale dell'Ai, Ergastolo Amladic, il boia di Srebrenica, compì genocidi e crimini di guerra, incandidabilità, mesi per decidere su Berlusconi, è un duello, quello che si sta svolgendo a Strasburgo. Casa chic dal comune, ma possiede 18 immobili. Il Campidoglio, ora via, prima restituzione, dopo l'invito della raggio, agli occupanti con la Porsche, i PM in campo. Per la Champions, Roma castigata dall'Atletico, il 2-0, rinvia la qualificazione agli ottavi di finale. Il tempo, spariti i soldi della UE, ai Rom e nei campi, chiedono il pizzo, 7 miliardi, stanziati e mai spesi, inchieste in procura, e per le case del comune, i nomadi, spuntano pure le bustarelle. Non è qui la festa, non è qui la fiesta, ieri sera a Madrid, la Roma sconfitta 2-0 dall'Atletico, sarà decisiva, la sfida, a dire la verità, non è impossibile, contro il Carabag, nell'ultimo turno. E poi, diario capitale, il Campidoglio, dal Vio Libera, allo stadio. Tutti i pareri, sono favorevoli. La rivolta, dei passeggeri, metropolitane ferme, mancano i ricambi. E poi, un giudice, ha deciso che il vaccino, è obbligatorio e basta. L'ha deciso un giudice, che ha bocciato il ricorso, presentato, dal Veneto. Abbiamo giornale, Libero, 80 mila negozianti, prendono la pistola, i commercianti ritengono inefficaci, le leggi che contrastano, i criminali, così come le pene, si sentono meno sicuri, quando lavorano, per questo vogliono duttarsi, di un'arma, di difesa. Allarme, troppi ladri. La fotonotizia, meglio che il ministro se ne vada, tutti rubano, a Paduan, addirittura, la sua consulente. Poi in basso, chi salva le banche, salva i delinquenti, la teoria sacrosanta, del procuratore, di Vicenza. Andiamo avanti, con l'avvenire. La UE avverte, conti a rischio, non diluite la manovra, Roma però tranquillizza, è tutto ok. E poi, il fatto, Mladic, condannato all'ergastolo, si chiude, la ferita di Srebrenica, l'ex generale serbo bosniaco, processato per genocidi e crimini contro l'umanità, dal tribunale speciale dell'AIA, che ora conclude i lavori. e poi c'è l'editoriale, proprio sull'avvenire, nulla sia dimenticato, non è affatto una sorpresa, la condanna all'ergastolo, inflitta in primo grado dal tribunale penale internazionale dell'AIA, all'ex comandante dell'esercito serbo-bosniaco, Mladic, per genocidio, crimini di guerra, perpetrati tra il 92 e il 95 durante la guerra di Bosnia, definito il macellaio di Srebrenica, a titolo guadagnato sul campo, grazie ai massacri compiuti su una popolazione inerme. Vediamo con il sole 24 ore, diktat dell'Unione Europea sulle pensioni, l'Italia rispetti gli impegni, verifica in primavera, Padoan, non serviranno delle correzioni, nella lettera di Bruxelles, l'allarme sul debito e la richiesta di non annacquare la manovra del 2018. Salone del mobile in Cina, la manifestazione di Milano sbarca a Shanghai. Poi il web fa concorrenza sleale, domani il Black Friday, sciopero dei lavoratori Amazon a Piacenza, la grande distribuzione denuncia gli squilibri fiscali a favore degli operatori dell'e-commerce. Chiudiamo adesso con le prime pagine dei quotidiani generalisti, apriamo le prime pagine di Sport, partendo, come vedete, alle mie spalle dalla gazzetta dello Sport, messi a metà la Juve, anche ieri sera ha finito 0-0 Juventus-Barcellona, fanno 0-0 col Barsa, che schiera Leo messi solo nella ripresa. E ora devono andare a vincere ad Atene e sarà una partita che verrà in mezzo alle due partite importanti di campionato con Napoli e Inter, per non dipendere dagli altri. Ma quello in generale sarà un brivido Champions per le italiane, si decide tutto negli ultimi 90 minuti, non c'è una italiana già qualificata. E allora c'è questo spauracchio degli spareggi che però viene evocato sulla base dell'ultimo spareggio, quello purtroppo è andato male dall'Italia, però certamente per le italiane saranno tre spareggi non impossibili. Ecco, forse il Napoli è quello che ha possibilità più ridotte, però per Juventus e Roma non ci dovrebbero essere particolari problemi di qualificazione. Griezmann a proposito di Roma fa magie e la Roma viene rimandata. Giallorossi deludono ma Ottavi in vista c'è il Carabaghi in casa, già promosso invece il Chelsea di Antonio Conte che ha vinto 4-0 proprio con il Carabaghi ieri pomeriggio. Il PSG va sotto poi ne fa 7 per Mourinho e Ibraimovic Beffa a Svizzera contro il Basilea che si impone 1-0 con il Manchester United. Stasera però sarà serata anche di Europa League Milan convoca pure Kakà e in Europa League Rossoneri contro l'Austria e Vienna la Lazio già abbondantemente qualificata unica di Europa League a punteggio pieno ospita il Vitesse Montella cerca a sanzire il pass per i sedicesimi Lex vede Kakà vede Fassone un incarico in vista la terza italiana è l'Atalanta Eurocarovana all'Atalanta basta un punto a casa leggiamo meglio a casa dei Beatles gioca a Goodison Park contro l'Everton stadio davvero molto affascinante il Corriere dello Sport Juve C6 Champions di bala sfiora il colpaccio contro il Barca finisce 0-0 gli ottavi potrebbero arrivare anche perdendo ad Atene cade la Roma invece il Ciolo piega i giallorossi a Madrid con un gol di Griezmann è poi bellissimo peraltro è quello di Gamero ma il 2-0 dell'Atletico non fa male perché la qualificazione è vicinissima in basso il caso Malagò invoca la svolta al calcio servono riforme radicali Coni pronto a nominare il commissario se la Lega di A non elegge il presidente e poi in signe fa ricco il Napoli adesso è valutato addirittura 100 milioni le parole di Gianni Petrucci porto il basket alle Olimpiadi da domani qualificazioni mondiali è l'intervista del Corriere dello Sport al presidente della FIP in alto Berlusconi ritorna non solo per le questioni che riguardano la sua eventuale o meno elegibilità ma anche per il passaggio di proprietà tra il Milan dalla sua proprietà a quella dei cinesi mi fido dei cinesi ha detto Berlusconi Berlusconi rassicura i tifosi del Milan che questa sera incontra l'Austria Venna in Europa League la Lazio invece con il Vitesse alle 19 chiudiamo le prime pagine con Tutto Sport Vera Juve solo alla fine e se il 4-4-2 fosse il modulo giusto si interroga il quotidiano che dà molto spazio alle vicende bianconere Barcellona non irresistibile senza messi dall'inizio ma i bianconeri non ne approfittano e si accendono quando Allegri cambia modulo per conquistare gli ottavi decisiva sarà la trasferta di Atene e poi per il Torino l'idea Nyang più Belotti e poi Nestorowski magari da prendere dal Palermo ci fermiamo qua la prima parte di Mattino 6 termina qui adesso le previsioni del metro la pubblicità e poi torneremo insieme per sfogliare i quotidiani di casa nostra seconda parte di Mattino 6 che apriamo entrando all'interno dei quotidiani di casa nostra ripartiamo con il centro con le questioni che riguardano la ripresa e il lavoro e il rapporto di Banca Italia che dà delle notizie insomma contrastanti perché l'Abruzzo riparte ma il problema è che il lavoro è al palo dunque una notizia buona sì ma per metà l'istituto parla di industria che cresce di famiglie che tornano a spendere ma l'occupazione è scesa del 2,8% a causa del terremoto e del maltempo diventa complicato pensare che sia solo a causa del terremoto e del maltempo però finché lo dice Banca Italia formazione Teramo firmata la convenzione tra l'università e la finanza in basso nel movimento 5 stelle la regione sopravvaluta gli alloggi per i terremotati del vecchio dice un prezzo congruo cambiamo pagina Onewell integrazione salariale per 337 l'annuncio del ministro Poletti 4 dicembre vertice al ministero Melilla di MDP non bisogna abbassare la guardia torniamo sulla questione dell'esperimento Sox tra poco sentiremo anche le parole del vicepresidente Lolli che ritroviamo anche sul quotidiano non solo su questo poi vedremo anche il messaggero tratterà delle parole di Lolli Lolli procedure aggiuntive sull'esperimento dei laboratori vicepresidente della regione sull'utilizzo di materiale radioattivo alla luce dell'esperimento Sox leggiamo per la sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso la regione Abruzzo non si accontenta delle procedure nazionali messe in atto fino a quando quel sistema non verrà messo totalmente in sicurezza disarticolando il sistema di raccolta e distribuzione delle acque cambiando la collocazione e la composizione della condotta con il progetto che potrà contare anche su un finanziamento statale come regione continueremo a chiedere procedure aggiuntive verrebbe da chiedere come mai adesso ci sono tutte queste fino a qualche giorno fa non c'erano tutti questi interrogativi adesso sono venuti di colpo guarda caso dopo qualche dubbio sollevato dal servizio delle Iene vabbè formazione ora l'osservatorio la richiesta di fondi imprese Abruzzo alla regione attrezzarsi per le sfide future comunque a proposito degli esperimenti dell'esperimento Sox noi ci andiamo ad ascoltare proprio le parole del vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli intanto io non voglio rassicurare nessuno attenzione il problema c'è non c'è da rassicurare nessuno c'è da intervenire perché è tempo che noi conosciamo il fatto che lì purtroppo un sistema importante e delicato che è rappresentato dall'autostrada dal laboratorio e dall'acqua convive in un modo improprio il servizio delle Iene ha riportato alla ribalta nazionale la problematica della coesistenza dei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso e dell'autostrada dei parchi con la captazione dell'acqua inchieste commissari straordinari e lavori di messa in sicurezza non hanno finora risolto il problema aggravato dall'imminente arrivo in Abruzzo da Malac in Russia di materiale altamente radioattivo il cerio 144 che servirà per l'esperimento SOX come direttore di laboratorio se potessi decidere di non erogarla sarebbe un grande sollievo nonostante tutte le precauzioni e le rassicurazioni dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare il timore che un incidente possa contaminare l'acqua che ogni giorno esce dai rubinetti di metà della popolazione abruzzese mette i brividi e crea preoccupazione sul fronte sicurezza dei laboratori anche grazie al tavolo tecnico e al protocollo firmato qualcosa si sta muovendo ma non basta nel prossimo futuro ci saranno dei lavori come ha ricordato il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli chiarendo la posizione della regione Abruzzo in materia Lolli si è detto deluso dall'atteggiamento del programma di Italia 1 che a suo dire in modo strumentale ha utilizzato una parte di una dichiarazione resa qualche mese fa hanno preso un pezzo di una mia dichiarazione di alcuni mesi fa quando scoprimmo che c'era questo esperimento nella quale io sostenevo che il tavolo sulla base del protocollo non era stato informato perché il fatto che l'informazione sia stata fornita e io l'ha detto il ministro il ministro è stato interrogato in Parlamento e ha risposto al question time dicendo sta tutto a posto sì sta tutto a posto secondo le procedure generali ma noi stiamo in un posto delicato e noi chiediamo procedure aggiuntive tant'è che adesso abbiamo chiesto di rimetterci di darci tutta la documentazione la stiamo esaminando perché per esempio lì siamo in un parco nazionale e quindi siamo sottoposti a vincoli in più e in più noi vogliamo vedere se un'attività di questo genere debba o possa essere sottoposta a procedure aggiuntive un via nazionale una vinca sono tutte cose che abbiamo comunicato formalmente in un incontro formale che ha fatto il tavolo con l'istituto che l'istituto con grande senso di responsabilità ha riconosciuto ed ha accettato i laboratori sotto il Gran Sasso restano un sito a rischio di incidente rilevante con materiale altamente tossico già stoccato al suo interno al di là delle autorizzazioni e delle carte bollate sul tavolo resta una questione di opportunità valutare se sia necessario rischiare in presenza dell'acquifero del Gran Sasso e fino a quando non ci saranno queste nuove accertamenti e autorizzazioni per quanto mi riguarda quell'esperimento dal punto di vista della regione non deve procedere dopodiché io mi auguro che gli esperimenti si facciano che il laboratorio prosperi che l'autostrada funzioni noi vogliamo far funzionare le cose però noi siamo anche i titolari del bene pubblico che è la salute e quindi abbiamo la responsabilità in più di quando ci sono problemi così delicati di aggiungere procedure ridondanti intanto la commissione attività produttive della regione ha approvato all'unanimità la risoluzione del movimento 5 stelle che chiede il blocco immediato e definitivo dell'esperimento radioattivo SOX la risoluzione approvata impegna il presidente la giunta tutta a mettere in campo le azioni necessarie per interrompere e bloccare l'esperimento e vediamo questo questo argomento che ritroviamo anche sulla pagina Abruzzo del quotidiano la città perché la regione si schiara contro l'esperimento SOX la commissione per le attività produttive vota all'unanimità la proposta per bloccare il test nei laboratori l'istituto nazionale di fisica nucleare tutti i rischi citati durante la trasmissione al terremoto all'atto terroristico non sono realistici SOX non rappresenta in alcun modo un rischio né per la popolazione né per l'ambiente non implica nessuna dose radioattiva per nessuno e naturalmente neanche per chi lavora nei laboratori almeno queste sono le rassicurazioni dell'istituto nazionale di fisica nucleare andiamo avanti tornando sul centro e andando a Pescara le insidie della rete le truffe corrono sul web arrestato un pescarese un 32enne finisce agli arresti domiciliari vendeva motori per imbarcazioni la merce non è mai arrivata agli acquirenti che hanno sporto denuncia difendersi è possibile e poi ci sono anche tre consigli per evitare eventuali raggiri che sono sempre inopinati incidente cronaca sulla circonvallazione perde il controllo dell'auto e si ribalta e poi è scoppiata una bomba all'aeroporto ma è solo una esercitazione andiamo avanti rimanendo a Pescara pista ciclabile contestata la rabbia dei negozianti stop ai lavori in via Muzzi diffida al comune per far ritirare la delibera cantiere dalla prossima settimana un esercente così creano il deserto davanti ai negozi e ci tagliano le gambe in basso i progetti del comune 3 milioni di euro per i nuovi percorsi vedete nella foto l'assessore Civitarese ancora a Pescara 80 strade senza luce scatta il piano d'emergenza il comune ha chiesto a Enel Sole di riparare i danni e accelerare i lavori serve almeno un mese e mezzo con un investimento di un milione di euro e poi c'è anche la sostituzione dei cavi in via Stradonetto e come vedete nella foto piazza Salotto al buio a causa dei lampioni spenti nella foto andiamo avanti la neopresidente i medici siano più vicini alla gente ma riassunta Ceccagnoli succede a Lanciotti ha preso 545 voti su 1063 la priorità ai problemi della categoria contenziosi legali e la formazione il nuovo presidente è l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Pescara ma riassunta Ceccagnoli che vedete nella foto e questo è il nuovo ordine dei medici riassunto in questo schema nel 2018 l'apertura del museo d'arte con il placet di Forte l'arcivesco in visita nel cantiere dell'ex banca d'Italia la collezione dell'imprenditore di Persio donata alla città di Spalla protezione civile inquinamento delle coste corso per volontari ambientali e poi il braccio di ferro superati i contrasti con la sovrintendenza l'apertura del museo è prevista entro il 2018 un traguardo non scontato perché tra inghippi burocratici e diatribi amministrative e giudiziari con la competenza sovrintendenza il progetto dei di Persio rischiava di naufragare andiamo avanti film e dibattiti per dire no alla violenza sulle donne tante iniziative domani e sabato all'Aurum per celebrare la giornata mondiale una mostra di sentenze penali dal 29 al 26 che racconta l'inferno domestico di Spalla benessere in rosa esperti a convegno scendiamo gli agricoltori in trasferta a Napoli col diretti parteciperanno al primo Black Friday a tavola sul lungomare cambiamo pagina andiamo a Francavilla scontri tra tifosi uno patteggia rito abbreviato per quattro imputati e ordinario per altri due dopo gli incidenti al Valle Anzuca nella gara contro l'Aquila in alto emergenza Ratti nella scuola San Franco sempre a Francavilla a San Giovanni Teatino invece in cammino contro la violenza in cammino per le vie della città contro la violenza sulle donne a Cepagatti Parco Santuccione l'aula si svuota l'opposizione attacca maggioranza defilata per non votare in basso San Giovanni Teatino gara di solidarietà per dare una casa a Chicco il cagnolino di 10 anni che vedete in foto a Montesilvano opere pubbliche c'è anche l'angolo cucina nella scuola del futuro affidati alla Marri lavori per la realizzazione del polo materno infantile sarà dimesso il plesso della colonnetta che costa 18 mila euro all'anno di affitto band musicali sempre a Montesilvano e studenti in festa per la rassegna nessun parli ragazzi dello scientifico dell'Istituto Alessandrini in prima fila in basso pop court degli studenti all'Arca Cinema stasera la quinta rassegna sui cortometraggi della scuola pescarese IFA con tanti ospiti in sala cambiamo pagina Città Sant'Angelo un corso di formazione per tributaristi aspoltore test per la terza età a che serve leggere a pianella colonnine per auto elettriche davanti alle case nuova normativa europea da adottare entro l'anno e poi calendario 2018 Abruzzo Mountain Bike Cup si riparte da Moscufo andiamo adesso a penne distaccamento dei vigili del fuoco si apre a dicembre conclusi dopo oltre dieci anni di attesa i lavori per il nuovo presidio di sicurezza nel comprensorio Vestino e poi a centropagina un referendum sul nuovo polo scolastico letto Manoppello D'Alfonso e la giunta comunale chiedono il coinvolgimento di tutti i cittadini per la politica Civitella Casanova il vice sindaco Recchia passa ad azione politica cambiamo quotidiano perché andiamo sulle colonne del messaggero a Pescara per vedere quella che è l'apertura del quotidiano proprio sul capoluogo Adriatico il nuovo portalvia ipotesi terrazza sulla vasca di colmata D'Alfonso illustra il piano in comune boccia l'appalto del dragaggio Antonelli stappa Montepulciano e Crodino mancano leggiamo l'appello 5 milioni per i Moli guardiani li trovo nel 2018 dice il presidente che chiama Giampieri Ancora 200 negozi per la spesa solidale il banco alimentare schiera i volontari sabato prossimo la maratona per aiutare i 40.000 poveri assistiti in Abruzzo in basso esercitazione di sicurezza in aeroporto simulata l'esplosione di una bomba forze dell'ordine in azione ma per fortuna si tratta solamente di una esercitazione bidone online a Pescara da 30.000 euro la truffa che abbiamo letto anche prima arrestato Manuel Ranghelli pescarese di 32 anni sospettato di una catena di truffe commesse attraverso il sito subito.it riusciva a fare ricchi incassi mensili grazie ad articoli civetta offerti a prezzi stracciati a Pescara il record di reati informatici Viale Muzzi pista ciclabile in 45 giorni passo avanti nel progetto Bici in Rete che vediamo qui riassunta il progetto di viabilità sostenibile questo è il tracciato che rende magari un po' anche più chiara geograficamente più chiare geograficamente le cose cambiamo pagina formazione rimanendo sempre a Pescara la sfida di fondi impresa al sistema regionale la società mista Confindustria e Sindacati ha garantito corsi a oltre 20.000 persone soltanto in provincia di Pescara Guardia Costiera esercitazione per un incidente su una piattaforma a Civitella il movimento di Zelli il vice sindaco passa ad azione politica a Pescara come abbiamo letto strade che sono al buio lavori su 45 impianti e c'è stato un vertice straordinario con comune pescare energia ed è nel sole per mettere fine ai continui blackout che soprattutto d'inverno sono ancora più penalizzanti cambiamo pagina e anche provincia andiamo all'Aquila edifici scolastici non sicuri il sindaco chiude due plessi primaria di pretura infanzia di Arischia hanno riportato un indice pari a zero provvedimento temporaneo 50 alunni ricollocati stamattina in due MUSP ancora adesso andiamo in cronaca aziani truffati all'ospis tre persone nel mirino questa è l'indagine per il conservatorio per la città che prova a rinascere una nuova sede in centro storico e poi torniamo sulla morte di Guido Conti il generale suicida si batte la pista del crollo psicologico per Conti una vita tutta in salita dopo il nuovo incarico alla Total e perciò non c'è cenno nelle lettere di questa scelta fallimentare la procura leggiamo ha già affidato l'incarico per decifrare la memoria informatica cancellata e risalire ancora meglio alle motivazioni che hanno spinto Guido Conti a questo tragico gesto ad Avezzano il mondo cattolico ricorda Irma Bianchi cambiamo andiamo nell'altosangro Polstrada interrogazione del pezzo pane sull'eventuale sopprassione del distaccamento della polizia stradale di Castel di Sangro come possiamo leggere a Chieti chiude l'albergo Garibaldi stanze in vendita come negozi ricettività in crisi nell'intera provincia a rischio default anche gli hotel costieri nel capoluogo in arrivo una raffica di sfratti per i commercianti morosi scuole tra proteste in centro storico e lavori appaltati la città che cambia cantieri da aprire lanci in calza e poi la vicenda che coinvolse Francesco Marfisi e la moglie uccise a coltellate moglie amica di lei perizia psichiatrica il medico consulente della difesa Filippo Mariaferro ha definito borderline la personalità di Francesco Marfisi qui nella foto a Lanciano estratti conto negati banca deve risarcire 81.000 euro per la cronaca furto di computer e liceo devastato preso un romeno e adesso però è caccia ai complici ricorderete il liceo devastato il liceo Galilei di Lanciano Movimento 5 Stelle no al nuovo edificio scolastico siamo a vasto sia al recupero dell'asilo della penna ad Ortona isola ecologica vicino alla scuola protesta del partito democratico a Teramo rimaniamo sempre sul messaggero poi cambieremo giornale la sfida di Brucchi tutti in consiglio il primo cittadino a l'idea chiare lì è cominciata questa avventura e lì è giusto che debba finire il sindaco chiede la convocazione straordinaria io il coraggio di confrontarmi ce l'ho altri devono lo devono ancora dimostrare e poi il bilancio della biblioteca delfico convenzioni con le scuole e altri spazi le altre novità previste le altre novità previste i prestiti digitali Monticelli dice siamo pronti anche ad altre innovazioni e qui la notizia che vi abbiamo già letto prima vi abbiamo fatto vedere anche il servizio lolli dopo le iene protocolli da rispettare per il caso acqua un equilibrio delicatissimo viene definito da conservare consapevoli che il problema esiste e come esiste andiamo sul giallo di Renata Rapposelli esperta di botanica esamina l'auto è il luogo del delitto pittrice uccisa la specialista del RIS dovrà stabilire se la Fiat 600 è mai stata nelle campagne di Tolentino studiando la vegetazione intanto leggiamo i carabinieri hanno sequestrato al figlio Simone due cellulari ed altre schede telefoniche per vedere se si può risalire ad altri indizi che possano dare una compiutezza a questo che è un vero e proprio giallo falso ideologico ancora cronaca a giudizio il comandante dei vigili urbani siamo a Roseto rinviato a giudizio Tarciso Cava accusato di falsità ideologica per i 1023 verbali emessi tra ottobre e dicembre del 2013 nei confronti di altrettanti automobilisti dopo essersi appostato in due punti a bordo della sua vettura munito di telefonino con cui filmare da piazza Ungheria quello che stava quello che stava accadendo periodo lunghissimo questo scritto però in basso operaio di 33 anni sale sul bus per Roma poi spegne il telefonino e scompare nel nulla di Stefano De Luca si sono perse le tracce da lunedì dall'altra parte donna investita al cimitero mancava la segnaletica prima di passare allo sport torniamo sul centro per vedere anche qui le altre province chiedi sia la perizia psichiatrica per Marfisi duplice femminicidio di Ortona tribunale l'omicida di moglie e amica concesso il ritro abbreviato condizionato parti civili che dicono parenti e centro antiviolenza le reazioni la rabbia delle famiglie non l'abbiamo neppure guardato devastò il liceo scientifico di Lanciano arrestato il ladro vandalo un romeno di 25 anni Ioan Pandele residente a Napoli e poi a Vasto abusano dei permessi licenziate Vasto lavoro in legge 104 l'istituto San Francesco manda a casa due dipendenti condanna a Lanciano banca Neva Gagli estratti conto cliente risarcito di 81 mila euro andiamo all'Aquila l'inchiesta sulla morte del generale Guido Conti si è ucciso con la pistola regalata dall'amico l'arma era stata donata a Conti da un imprenditore del Pescarese una calibro 40 come quella in dotazione alla polizia privata il giallo della lettera potrebbe essere proprio l'amico il destinatario della terza missiva inviata dall'ufficiale e non ancora ritrovata centro pagina stasera riapre con Vanzina lo storico cinema pacifico a Sulmona la struttura era chiusa dal 2013 poi per la cronaca il ragazzo investito da un'auto su Viale Corrado Quinto Corrado Quarto all'Aquila ha riportato dei traumi ma le condizioni non sembrano gravi e poi l'Avezzano Calcio in udienza dal Papa prima squadra settore giovanile in Vaticano donato al Pontefice un quadro proprio su San Francesco una giornata particolare certamente per la formazione bianco-verde stavolta il gol all'incrocio lo fa Papa Francesco quando stringe fra le mani la sciarpa con la scritta Forza Lupi omaggio del presidente bianco-verde Gianni Paris mi ha sorriso dicendomi Forza Avezzano racconta il numero uno bianco-verde andiamo in provincia di Teramo il blitz dei carabinieri bruciano l'auto per un debito di cocaina due cittadini albanesi arrestati per estorsione dopo le minacce ad un quarantenne giuliese diamo fuoco anche alla casa hanno anche detto la denuncia e le indagini la trappola è scattata sul lungomare di Roseto nell'auto trovata anche una mazza ferrata uno dei due ha tentato di scappare sequestrati i cellulari di padre e figlio ovviamente parliamo del giallo di Renata Rapposelli il giallo della pittrice scomparsa i carabinieri prendono anche le sim Slittle sopra luogo a Tolentino cambiamo giornale adesso prima di passare allo sport vediamo le questioni della crisi del municipio a Teramo Brucchi spiazza tutti e convoca il consiglio area di dimissioni per lunedì il PD cambia ancora idea sul notaio Pomante evoca quello che viene definito il biscottone nuovo vescovo oggi l'annuncio di Papa Francesco Monsignor Lorenzo Leuzzi indiziato numero uno alla successione dell'arcivescovo Michele Seccia in partenza proprio per Lecce chirurgia e parliamo delle questioni del Mazzini l'ASL rischia di rimanere senza primari per il primariato al Mazzini ad Atri arrivano 14 curricula gettonata l'ipotesi di puntare su professionisti locali e per la biblioteca delfico sono stati triplicati i finanziamenti così Monticelli al consuntivo del primo anno di gestione regionale della biblioteca con lui Zappacosta e Savini andiamo avanti per la provincia torna l'acqua nelle case della Valvomano riattivato ieri mattina il potabilizzatore di Montorio fermato a causa dell'acqua troppo torbida e il convegno all'università di Teramo sulla canapa utile i migliori ricercatori italiani oggi a confronto sulla pianta che può essere utilizzata in diversi settori andiamo in Val Vibrata a Sant'Egiglio non paga la droga e gli bruciano l'auto due fratelli albanesi finiscono in manette con l'accusa di estorsione in basso Poli Service rassicura sull'applicazione delle tariffe la società chiarisce che la tariffa variabile è stata applicata in maniera corretta ovviamente anche qui siamo in vibrata sul giallo di Renata Rapposelli sequestrati i telefoni e del figlio della pittrice slitta domani il sopralluogo nella scarpata dove è stato trovato il corpo in basso a Giulianova gli argini del Tordino tornano osservati speciali l'ondata di maltempo ha provocato danni l'erosione della sponda nord del fiume il processo al comune i testimoni smentiscono la smentita sulla bruscia acceso di battito a Roseto sulle dichiarazioni durante la conferenza stampa degli operatori turistici adesso apriamo la pagina di sport ieri l'amichevole per il Pescara ad Ortona contro l'Ortona avviso ai titolari il Pescara 2 è in palla bagno di folla a Ortona i biancazzurri segnano 11 gol e divertono Zeman schiera le seconde linee che convincono però come vediamo contro i gialloverdi ma Gans non dribbla Sebastiani non brilla Sebastiani spera che resti con noi in basso ovviamente lo sguardo è sulla prossima partita contro lo Spezia ha parlato Baez Spezia forte ma possiamo vincere l'uruguayano ha giocato in Liguria nel 2016 2017 del sole invece dice siamo una squadra da play off vediamo adesso le questioni del Pescara anche sul messaggero andando avanti con le parole di Sansovini anche lui doppio ex Sansovini sarà battaglia attaccante ha indossato la maglia del Pescara e dello Spezia lo stadio Ligure la curva ferrovia per intenderci è sempre molto caldo servirà a grande agonismo l'esposizione dei pettinari non mi sorprende Zeeman è capace di tirare fuori sempre il meglio da tutte le punte che allena il presidente Sebastiani dice bene così ma servono delle conferme intervista ieri ovviamente dopo la partita 11 reti come vedete nel test contro Lortona in basso Serie C Teramo fuori dalla Coppa Italia ai rigori vince 3 a 2 la Viterbese buona prestazione dei Biancorossi in campo con molte seconde linee i 90 minuti erano finiti senza reti andiamo sul centro per vedere anche qui la Serie C Teramo eliminato ma quanti rimpianti ma adesso per i Biancorossi la testa va alla Sametese lunedì sera per il posticipo della giornata di campionato a Viterbo il diavolo reclama un penalty poi cede sbagliando tre rigori con Varas Pietrantonio e con Fagioli andiamo avanti Serie D la solita paginata per fare il riassunto delle squadre partendo con quella che sta più in alto di tutti ovvero la Vastese la squadra con il minor numero di ammunizioni l'allenatore Colavitto significa che i ragazzi badano solo a giocare a calcio almeno 300 tifosi in trasferta domenica per il derby contro il Francavilla per quanto riguarda le altre squadre l'Aquila con il dubbio della presenza o meno di Padovani contro il San Marino dall'altra parte test col Pescara primavera per il San Nicolò San Nicolò forse sabato al Castrum di Giulianova in casa Avezzano invece che va a Recanati bisogna trovare il sostituto di Persia che è stato espulso domenica scorsa proprio nel derby contro il San Nicolò il bilancio del Pineto Gianmarino Pineto ti voglio più incisivo Nero Stellati con Bizzindu Onwachi senza transfer a Sulmona con il Monticelli dovrebbe giocare anche il Nero Stellati in anticipo di sabato invece domenica come hai detto c'è Francavilla Vastese brutte notizie perché il Francavilla perde anche il difensore Amenta il capo degli arbitri della Serie A Rizzoli al campo per salutare l'amico De Luca e il presidente Candeloro UEFA Futsal Cup il Pescara si illude e poi cade nel finale stasera gli olandesi buona partenza ma i servi si impongono in rimonta ora due vittorie che potrebbero non bastare per qualificarsi peraltro anche infortunio a Morgato che complica ancora di più le cose in casa Biancazzurra chiudiamo con Magic con il basket il rilancio del basket a Chieti passa per il Vivaio Teatini al secondo posto in C-Silver alla vigilia della sfida con il Teramo a spicchi il supervisore Giacomo Rossi club organizzato la semina andrà ottimi frutti questa era l'ultima notizia per oggi io vi ricordo che alle 14 c'è la prima edizione del nostro telegiornale con tutte le notizie principali dalla regione mattino 6 torna domani mattina puntuale alle ore 8 è tutto buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.